Villa Bucci, Villa Sirene, apre le porte ai turisti con 5 Superior Suite e il ristorante Gourmet Il Fenicottero Rosa. Inaugurate il 19 marzo scorso, la doppia nuova attività rientra nell'offerta di Villa Abbondanzi Resorte e si affianca al ristorante 5 Cucchiai. Lavori di pochi mesi hanno quindi trasformato la villa neoclassica, nella quale è possibile ammirare affreschi della scuola di Felice Gianni. Ristorante e struttura ricettiva svolgono attività separate e complementari, con vista sul grande parco che si affaccia sulla Via Emilia. Disponibile per passeggiate a tutti i visitatori. Alla guida della cucina del Fenicottero Rosa ci sarà sempre Alessandro Giraldi, che conserva il ruolo di Executive Chef per il ristorante 5 Cucchiai di Villa Abbondanzi. Le ambizioni sono alte e si punta a raggiungerle con un'importante attenzione ai prodotti italiani e locali. La decisione parte dallo spirito di accoglienza che ha sempre caratterizzato la nostra, la mia famiglia. A partire dai miei nonni, che amavano ospitare a casa loro, nel loro salotto, dove oggi c'è il Fenicottero Rosa Gourmet, dove è stato appena avviato. Amavano tantissimo ricevere i loro amici in convivialità, proprio per stare insieme e in compagnia. Con l'offerta fra Fenicottero Rosa e Villa Abbondanzi, come sarà questa sinergia? Sicuramente cercheremo di creare il più sinergia possibile, ma in questa maniera il cliente ha la possibilità di scegliere tra due ristoranti, quindi tra due realtà gastronomiche diverse, l'una dall'altra. Il 5 cucchiai, sempre specializzato nella cucina di pesce e che quindi ama sicuramente prendere prodotti di curare, prodotti di altissima qualità del nostro territorio, come anche il pesce dal nostro mare adriatico non solo. E la proposta un po' più di sperimentazione, quindi gourmet, del Fenicottero Rosa, per palati ancora più esigenti e sicuramente curiosi di fare un percorso, una sperimentazione del tutto nuova e speriamo insomma gradita e stupefacente. Abbiamo sentito comunque grande attenzione anche per i prodotti del territorio, avete anche un orto vostro. Esattamente, abbiamo un orto giardino che è anche visitabile proprio da parte della clientela per una passeggiata, per sedersi anche su delle panchine, magari con un bicchiere di vino, assaporando la primavera e sicuramente anche l'estate maggiormente. L'orto giardino ci sta dando parecchie soddisfazioni e con i prodotti che ci regala nelle varie stagioni ovviamente riusciamo a donarli ai nostri chef, insomma alle nostre brigate di cucina, sia per i 5 cucchiai che per il Fenicottero Rosa e quindi dopo loro riescono ad avere una materia prima sicuramente di eccellenza e riescono a lavorarla nel miglior modo possibile.